carissimi amici e amiche bentornati a questo ciclo di catechesi dedicato ai novissimi abbiamo cominciato ormai da qualche un paio di puntate a trattare dei cosiddetti novissimi mundi in particolare il tema della parousia la volta scorsa ci siamo occupati in particolare di di alcune tematiche abbastanza delicate importanti quali in particolare tra le altre appunto quella del primo del secondo combattimento scatologico ed anche le tematiche connesse al millenarismo e alla problematica che questo comporta ma in particolare quella grande prova che attende la chiesa prima della sua rinascita in cui viene tra le altre cose svelato il mistero dell'iniquità e l'anticristo che abbiamo abbiamo parlato la volta scorsa di di questa figura che non è fondamentalmente una figura singola circoscritta nel corso della storia ma appunto una figura che sono figure che si susseguono nel corso della storia che compaiono nel corso della storia e che arrivano dei momenti in cui giungono ad essere abbastanza come dire impegnative con le loro forme di di manifestazione quindi un po' questa è la tematica che ci lasciamo alle spalle adesso concludiamo si spera questa sera il discorso sulla parousia andando prima a vedere alcune considerazioni di san tommaso sulla parousia e poi qualche riflessione sistematica e conclusiva per cercare di focalizzare definitivamente il tema che stiamo trattando allora cominciamo dal dare uno sguardo a quanto afferma san tommaso a proposito della parousia la prima cosa quella molto importante è che nella parousia cristo tornerà non non apparirà più come umile salvatore pieno di misericordia ma come giudice ci sono questi due aspetti distinti e che dobbiamo tenere presenti cioè le cose che dio fa le fa in maniera perfettissima la venuta terrena di gesù doveva essere così come è stata nell'umiltà anche per lasciare integra intatta la nostra libertà ed anche per dare a noi la possibilità di esercitare la fede chi è stata ammessa oggi avrà ascoltato il vangelo dove gesù di fatto lamentandoci dell'incredulità dei nazaretani suoi concittadini presenta gli esempi del naman il siro e della della vedova di zaretta a cui furono mandati i profeti ed erano persone estranei al popolo di dio e così le persone a lui più vicino e la fede non ce l'hanno avuta tant'è vero che i vangeli ci dicono che a nazaretta non fece quasi nessun miracolo appunto perché non avevano fede ma se noi adesso vedessimo in gesù cristo apparire nella gloria come giudice non ci sarebbe bisogno di nessuna fede perché saremmo schiacciati perché al termine della storia sarà così e cioè noi viviamo un tempo più o meno lungo sotto leggi da sotto le sotto l'insegna della fede dio ha deciso di salvare il mondo per mezzo della fede noi sappiamo che in passato i luterani hanno come dire esasperato e sacerbato questo aspetto della salvezza della fede della sola fides e quindi come dire poi nel corso della storia anche nella chiesa si è andato un pochino come dire mitigando il discorso su questo punto per evitare insomma che si ricadesse nelle eresie luterane ma dio ha deciso di salvare il mondo per mezzo della fede e la fede è una conoscenza in evidente e per cui per antonomasia la fede non può essere dimostrata non si può avere l'evidenza della fede perché se avessimo l'evidenza non avremmo dinanzi a noi una verità di fede anche se attenzione questo non dimentichiamolo mai che le verità di fede per noi devono avere un valore superiore e ancora più incontrovertibile delle verità di altro genere comprese quelle scientifiche che hanno dalla loro è come dire il crisma dell'evidenza nessuno può negare che due più due fa quattro ma come ho detto innumerevoli volte anche ricordando la problematica reale del caso Galilei per me che torno che Cristo tornara come giudice a giudicare i vivi e i morti e che ci sarà la risurrezione della carne dovrebbe essere se la fede è degna di questo nome più certo che non che due due faccia quattro le stupidaggini che dice qualcuno che la fede passa attraverso i dubbi che non c'è fede se non c'è dubbio ma queste sono stupidaggini grosse quanto una casa perché i dubbi di fede dubitare delle verità di fede tra l'altro è un peccato e quando il dubbio è volontario e grossolano peccato mortale per il catechismo della chiesa cattolica non lo dico io la fede non ammette nessun tipo di dubbio perché il fondamento della fede ecco perché deve avere un valore superiore anche alle verità scientifiche è l'autorità di dio che ha rivelato le verità di fede e hanno la garanzia del magistero autentico e vero della chiesa che ti dice guarda questo è una verità rivelata da dio e quindi sta attento che io non ho nessuna chiesa non ha nessun potere sulle verità rivelate da dio se non quelle di fare discernimento e di dire questa è una verità rivelata da dio e questa no quindi su questo sei libero di crederci o di non crederci ma su quello che ha rivelato dio non sei libero di crederci o di non crederci o meglio se non ci credi sei fuori della vera fede sei fuori della comunione con la chiesa sei fuori della verità e quindi sei eretico questo è il compito che ha la chiesa a questo punto ci deve essere chiarissimo questo è uno dei punti certi inerenti a questo tema che chiaramente quando si parla delle realtà ultime adesso qui anche san tommaso per esempio commenta segni premonitori li abbiamo visti no dice ci saranno guerre rivoluzioni terremoti ma questi ci sono sempre stati cioè non è che quante guerre ci sono state nel corso della della storia quante rivoluzioni quanti terremoti tantissimi no ora la la persecuzione prima metteranno le mani addosso su di voi e vi vi diranno vi vi porteranno per le sinagoche tutte quante le cose che gesù nei discorsi scatologici e applica come segni premonitori della sua venuta a santo maso che lo stanno intelligenti ma queste cose ci sono sempre state allora perché gesù ne parla perché questo vedete così capiamo anche un pochino è un discorso analogo alla problematica dell'anticristo non è che questi segni ci sono prima della venuta e prima non ci sono mai stati così come non è che l'anticristo c'è prima della venuta e prima non c'è mai stato ma così come la figura dell'anticristo prevede delle successive fasi di realizzazione storica sempre più sempre più cioè è sempre più anticristo corto quindi fino a diventare l'anticristo per antonomasia per eccellenza ecco così queste cose ci sono sempre state ma in prossimità degli eventi finali e attenzione che la volta scorsa abbiamo già visto che secondo il libro dell'apocalisse la parusia è presiduta dal secondo combattimento escatologico e la parusia consiste nella fine della storia o nella fine dei tempi prima di questo momento c'è un periodo critico che ha dato luogo all'eresia del mineralismo che è il primo grande scontro escatologico abbastanza violento tra le forze del bene e le forze del male anche qui questi segni si intensificano la manifestazione dell'anticristo che c'è in questo tempo sarà una manifestazione bella massiccia d'accordo bella consistente bella definita e ci sarà non una parusia ma un intervento perché abbiamo visto che non ci sono e lo dirà anche sant'ommasi in maniera perentoria che non ci sono venute intermedie del signore ma comunque sia ciò che abbiamo visto anche la volta scorsa è stato profetizzato dalla Madonna Fatima alla fine il mio cuore immacolato trionferà il trionfo del cuore di Maria il trionfo del cuore di Cristo ecco e poi perché conosce anche gli scritti di Luisa Piccarreta c'è molto da sospettare chiaramente qui ci si muove sempre in termini di ipotesi per quanto possano essere plausibili perché nessuno può avere la certezza di quello che accadrà cioè anche tutta la figura tutta l'altra la programmatica misteriosa di questo regno dei mille anni no saranno mille non saranno mille c'è la risurrezione c'è la risurrezione abbiamo già visto la volta scorsa no e come la chiesa abbia detto anche nella forma mitigata quindi non è possibile quindi anche a prescindere da eventuali risurrezioni di morti non si può insegnare questa cosa senza pericolo però il concetto il concetto rimane il concetto rimane che per un tempo simbolico mille anni cioè il cubo di dieci quindi è un tempo diciamo così cospicuo reale saranno proprio mille anni che cosa succede succede che al diavolo vengono messe le catene che c'è comunque un tempo di prosperità e di pace dove dove Gesù regna e quindi possiamo possiamo e dobbiamo sperare che la regalità sociale di Cristo come dire una fede molto diffusa noi sappiamo che un secolo fa un po' di più di un secolo fa almeno in Italia la frequenza della messa domenicale stava intorno al 90 per cento ma stiamo sotto il 10 di media quindi in qualche posto siamo arrivati al 5 anche in questo posto dove mi trovo io siamo arrivati al 5 quindi questo dobbiamo possiamo aspettarcelo quindi c'è un'intensificazione intensificazione che sarà massima al tempo della fine bella se bella cospicua un bella significativa nel primo combattimento scatologico quindi terremoti carestie catastrofi naturali segni nei cieli persecuzione dei cattivi sui buoni intensificati la luna il sole che si oscurano i astri qui santommaso parlando della fine dice ma se si oscureranno proprio materialmente lo faranno nel tempo proprio immediatamente precedente alla venuta colore di cristo che comunque tutti vedranno è chiaro che dietro queste immagini potrebbe esserci una lettura simbolica forse perché il sole nella sagra scrittura rappresenta cristo la chiesa la luna rappresenta la chiesa gli astri le potenze dei cieli saranno sconvolti no la sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo ci sono tante interpretazioni no tante letture che sono state date il sole cristo il sole che si oscura vuol dire che la luce di cristo non brilla più nel mondo la luna che perde il suo splendore vuol dire che la chiesa non sta facendo più la sua missione non la chiesa la sposa di cristo ma la chiesa nelle persone che concretamente in quel periodo storico lo stanno rappresentando quindi che non sono più all'altezza e che le potenze dei cieli saranno sconvolte vuol dire che ci stanno quei passi della sagra scrittura dice stupitene cieli non riditene come non mai per quello che si sta vedendo no quindi anche nel tempo che stiamo vivendo insomma c'è motivo di riflettere pensando a queste cose a mio modestissimo avviso è più di qualche motivo ecco le potenze dei cieli saranno sconvolte dice san tommaso significa che gli angeli si messi meraviglieranno grandemente per ciò che avverrà nel mondo proprio questo dice anche lui ecco e questo vale sia per l'ultimo per il secondo che per il primo questo è un pochino il contributo il contributo che da san tommaso dopodiché san tommaso accenna anche che la grande purificazione purificazione no purificazione viene dal greco più rosso significa fuoco in greco allora qui san tommaso fa delle considerazioni che lui applica per il tempo finale ma io personalmente mi sentirei attenzione qui siamo proprio nell'ambito delle libere interpretazioni e quindi come non detto nel senso se non volete dare nessun credito a queste cose liberissimo di farle perché qui proprio sono mie illazioni illazioni ma un po troppo supposizioni illazioni un po un po in senso negativo no mie supposizioni credo fondate però evidentemente san tommaso dice ai tempi della grande purificazione del mondo ci fu l'acqua no ci fu il diluvio quindi l'acqua era proprio acqua d'accordo quindi è stata fatta piazza pulita per mezzo dell'acqua invece al tempo della fine sarà fatta piazza pulita per mezzo del fuoco e lui parla proprio di fuoco fuoco e che purificherà tutti gli elementi dalle infizioni dalle impurità contratte per la mutuazione e passione attraverso i peccati degli uomini sapete quante profezie che girano che circolano i fuochi dal cielo testa a sinistra quindi si può ipotizzare d'accordo una cosa di questo genere anche con qualche passaggio forse 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 certamente l'abbiamo visto la volta scorsa la fase storica del primo combattimento scatologico trova noi siamo adesso nel regno della redenzione perché siamo duemila anni dopo dopo cristo no ma c'è stato anche il tempo precedente la redenzione e il diritto universale venne quando la decadenza del genere umano post peccato originale è raggiunta a livelli proprio assolutamente spaventosi inaccettabili addirittura la bibbia mette in bocca a yahweh mi pento di aver creato l'uomo non in espressione forte antropomorfica ecco guardate che la degradazione a cui siamo giunti adesso che non sembra toccare la fine io continua a sena continua a leggere a sentire i movimenti cioè adesso l'ultima notizia arrivata proprio oggi che mi hanno girato un'agenzia di stampa tanto per dirne una è che dice che in germania da oggi in poi le femminucce potranno andare in piscina in topless perché per la varietà di genere dice perché gli uomini possano andare a petto scoperto e le donne no è la stessa cosa no voglio andare a donna a petto scoperto pure di ci può e gli hanno dato ragione tutto è partito pare da una causa che ha fatto una 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 persona perché gli aveva appunto proibito di stare in quel modo ovviamente io io aggiungo poi è successo il finimondo e adesso hanno approvato una cosa di questo non è la cosa più grave che che esiste adesso c'è di molto peggio questo discorso sul gender ma scusate pensate anche ad alcune cose tanto ormai sono cose pubbliche non ho paura di dirle queste cose qui cioè alle cose che hanno combinato al sinodo tedesco benedirebbe benedire le coppie omosessuali ma cioè ma dico ma di che cosa vogliamo parlare cioè ma come gli può passare per l'anticamera del cervello a un vescovo della chiesa di fare una cosa di questo genere io io sinceramente non lo so cioè noi abbiamo con buona pace di tutto quanto il mondo lgbt eccetera eccetera noi abbiamo dei passi della scrittura che sono talmente chiari compresi poi nell'antico testamento le distruzioni di sodoma e gomorra che non abbiamo margini di azione per quanto riguarda la condanna netta di tutti quanti gli atti omosessuali di qualunque genere netta e inappellabile sono è uno dei quattro peccati secondo il catechismo che gridano vendetta al cospetto di dio ma come caspita ti può venire in mente una cosa del genere cioè io credo che questi siano segni dei tempi amici cari io me lo chiedo ma dico ma un vescovo ma come gli può venire in mente a che cosa crede scusate adesso non è che uno vuole fare relazioni o cose di questo genere ma guardate che cioè a me mi dispiace di dire queste cose mi dispiace che qualche vescovo possa pensare mettere nero su bianco robe di questo genere ma anche adesso sono state resi pubblici sono finita la settimana scorsa non è che sono sai lazioni uno cioè dico queste cose con estrema sofferenza ma insomma queste cose cosa pensa il nostro signore io personalmente sono l'ultima ruota del carro ma non credo proprio che il nostro signore approvi queste cose né che sia molto contento di questo ed è una stranezza che ci siano queste cose come che si parli solo che si parli di tante altre questioni all'interno della Santa Chiesa di Cristo cioè San Paolo dice che di certe cose per esempio impurità insulsaggine trivialità tra voi neppure se ne parli lo scriveva tanti anni fa ma neanche se ne deve parlare cioè non è che ci dobbiamo mettere a pensare o a riflettere non se ne deve proprio parlare cioè della serie ma di che vogliamo parlare va beh in ogni caso andiamo un attimo a concludere a concludere il nostro discorso però certamente queste parentesi io credo che tutti quanti cioè coloro che sono figli della Chiesa che si sentono figli di Dio che amano la Chiesa che hanno a cuore il bene la salvezza delle anime soffrono per queste situazioni no per cui cioè questo per per far comprendere cioè che succedano cose di questo genere insomma sono segni dei tempi secondo me non non sono quindi queste sono opinioni del tutto del tutto appunto opinabili però insomma allora per quanto riguarda la riflessione sistematica bisogna mettere di nuovo evidenziare di nuovo come da cattolici si deve intendere l'unica venuta di Cristo nella parousia è il fatto che non ci siano venute intermedie visibili di Cristo secondo secondo San Tommaso lo scrive nella Somma Contra Gentiles guarda proprio la situazione è proprio precisa nel libro quarto al capitolo 83 8 sub c per chi per chi vuole andare a controllare perché cito proprio testualmente no che cosa sono questo regno di mille anni la prima risurrezione attenzione dice San Tommaso perché l'apocalisse parla della prima e della seconda risurrezione della prima e della seconda morte lui dice la prima risurrezione è quella delle anni in quanto risorgono dal peccato questa è la grande risurrezione prima i mille anni indicano tutto il tempo della chiesa nel quale i martiri e gli altri santi regnano con Cristo sia nella chiesa presente chiamata appunto regno di Dio che nella chiesa celeste quanto alle anime il mille infatti è un numero che indica la perfezione perché è un numero pubico come accennavo prima 10 alla terza e perché la sua radice che è il 10 ci serve anch'esso ad isprimere la perfezione quanti sono i comandamenti sono 10 applicando queste cose vedete però i martiri e gli altri santi regnano con Cristo il regno noi sono duemila anni che stiamo chiedendo a Dio venga il tuo regno per caso Cristo regna adesso in giro Pio XI nel 1925 quasi 100 anni fa istituì con la Quas Primas se non ricordo male credo di sì la festa di Cristo Re proprio a voler evidenziare sancire il dominio e il regalo universale di Cristo sul mondo ma adesso Cristo non regna manco per niente assolutamente non regna in nessuna istituzione perché le istituzioni democratiche moderne attenzione con cui tutti quanti ci sciacquiamo la bocca eh questo non ce lo dimentichiamo si fondano sul principio tutti quanti mutuato dalla rivoluzione francese dello Stato laico Stato laico non significa che lo Stato è fatto dai laici perché è chiaro che sono i laici che fanno la politica mica un prete può fare politica ma questa accezione di laico non è non ha lo stesso campo semantico di come lo intendiamo noi dentro la Chiesa ci stanno i preti ci sono i religiosi e ci sono i laici quindi i laici sono quelli che vivono nel mondo e si santificano trattando con le cose temporali e con le cose temporali questo va bene ma dire lo Stato è laico e tra l'altro lo Stato di diritto si fonda sulla norma fondante quindi su Kelser che è completamente che è decisa dagli uomini a prescindere da qualunque tipo di riferimento assiologico perdonatemi la parolona precostituito quindi uno Stato la Costituzione che cos'è è che io ci raduniamo i padri costituenti e decidiamo che in questa nazione i valori fondanti sono questi ora la Costituzione italiana grazie a Dio dal momento che è stata fatta in larga parte dai democristiani da qualche tempo era il partito popolare è chiaro che è una Costituzione che si vede che è ispirata in larga parte ai valori cristiani ma per esempio altre Costituzioni non lo sono tipo in Francia tanto per dirne una dove come dire la componente la spinta diciamo così massonico illuministica proveniente dalla rivoluzione francese dal post rivoluzione francese Robespierre e Napoleone si sente pesantemente in Italia ci sono delle pressioni per cui nonostante quello che c'è scritto però si vada verso sempre una maggiore come dire laicizzazione dello Stato in senso non positivo per esempio adesso stanno raccogliendo in giro come penso che sappiate firme su firme su firme per far passare a tutti i costi l'eutanasia in Italia una cosa di questo genere sarebbe di una gravità inaudita voi capite no? quindi ci sono gli attacchi cioè alla vita all'inizio e alla fine all'inizio ormai sono quasi 50 anni che c'è la legge sull'aborto voglio proprio vedere se ci arriviamo che faranno nel 1928 quando sarà il cinquantesimo della legge 194 e penso che io non amo parlare di queste cose però ogni tanto capite qui purtroppo si parla di cose di stretta attualità perché cioè qui stiamo dentro sicura non sarà il primo combattimento escatologico non è un dogma di fede è una mia opinione personale ho detto la volta scorsa che non sono il solo a pensare in questo modo ci sono anche personaggi molto più autodevoli di me che lo pensano se anche non fosse c'è comunque un momento di scontro violento tra il regno delle tenebre e quello che dovrebbe rappresentare il regno della luce cioè il nostro questo penso che sia innegabile questo qui e lo scontro si ha a questi a questi livelli e guardate che l'altro giorno ho letto che Macron facciamo nomi e cognomi oggi vorrebbe mettere nella costituzione francese che l'aborto è un diritto umano ci sono delle spinte provenienti da vari settori perché per adesso pensate l'aborto è qualificato come diritto civile pensate un po' lo chiamano diritto civile forse qualche cattolico un po' coraggioso dovrebbe anche dire magari questo sarebbe un diritto incivile non civile però comunque giocando un pochettino sulle parole no ma diritto civile vuol dire che è un diritto del cittadino garantito ma è un diritto del cittadino quindi non è un diritto dell'uomo quindi vorrebbe dire che se le leggi cambiassero potrebbe non essere più un diritto per quanto che cambi almeno in Italia non c'è nessuno che ha né la voglia né la possibilità di esporsi di fare una battaglia di questo genere perché sono tutti allineati almeno a quanto io mi sembra di poter constatare anche quelli che sono come dire teoricamente contrari non gli passa nemmeno per l'anticamera del cervello di andare ad intervenire su questa cosa ma voi immaginate se si dovesse affiancare anche quest'altra cioè aggredita la vita quindi stroncata la vita sul nascere eliminata la vita al termine presentando anche quello attenzione come un diritto sa cosa perché tutto quanto alla problematica testamento biologico e fine vita è allora io decido se mi si va a ridurre la vita a qualche cosa di intollerabile io non sopporto di vivere in questo modo tu mi devi lasciare in pace e io decido di andarmene in maniera indolore mi faccio fare una bella iniezione e io non voglio stai capite questa cosa è un insulto alle sofferenze di nostro signore ed è un nuovo enorme oltraggio regato alla signoria di Dio sulla vita la vita è un bene indisponibile è Dio che decide se come dove quando nasce ed è Dio che decide se dove come quando muore però capite fate funzionare facciamo funzionare tutti quanti il cervello se lo stato mette le mani avanti dice ah io sono uno stato laico a me queste cose non mi interessano sono cose confessionali quindi dall'alto del mio essere sganciato da ogni riferimento confessionale e attenzione e anche da ogni valore assiologico assiologico vuol dire appunto valore morale che sia fondato sulla legge naturale perché la vita è comunque una realtà naturale se uno volesse ragionare a prescindere dalla fede parlando semplicemente quindi dal momento che la vita nasce a volte anche in maniera come dire involontaria no perché non sempre se la vanno a cercare quindi ci sono delle piccole spie d'accordo che e dal momento che tu che hai 40 anni e che ti credi in diritto di poter sopprimere questa vita magari nata in maniera indesiderata beh dovresti ragionare un minimo no perché se l'avessero fatto con te tu non potresti metterlo neanche in campo questo tuo supposto diritto cioè ci sarebbero dei margini di ragionamento perché ciò che Dio formula nella legge cioè il problema dell'aborto è di quinto comandamento ma i comandamenti secondo l'insegnamento della chiesa appartengono non alla legge positiva alla legge naturale legge naturale vuol dire che queste cose sono insite nella natura dell'uomo per cui se un uomo onestamente si mette a riflettere a pensare arriverà al fatto che una certa condotta non è moralmente ammissibile ma se io ecco perché ecco perché adesso stiamo in tempi altro che regno di Cristo in regno in tempi in cui Cristo è stato sbattuto fuori a calci cioè è stato rinnovato il non serviam non vogliamo che questo regni su di noi lo decidiamo noi quello che facciamo e quello che vogliamo fare non vogliamo nessun intraccio di nessun tipo amici a me dispiace ma la realtà è questa la realtà è questa e ci sono molti cattolici anche in politica che sono tutti contenti che dicono viva lo stato laico altra cosa è che evidentemente ma questo la Chiesa l'ha sempre insegnato ok che ci sono delle come dire dei 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 normali margini di autonomia delle cose temporali cioè e questo per esempio è anche detto nel fatto che il Magistero della Chiesa e del Papa non si mette a dire a parlare a pontificare su tutti quanti gli argomenti può toccare anche delle cose che hanno a che fare per esempio con la medicina l'aborto è un problema di medicina no perché l'aborto tocca la vita quindi è chiaro che l'aborto è una cosa che si fa in ospedale però se il Papa dice l'aborto no non è che vuole invadere il campo della medicina ma in questo frangente si tocca la vita così come la eutanasia però di per sé la competenza del Magistero della Chiesa è sulla fede e sulla morale non su tutte quante le branche dello scibile umano ipso facto se ci fossero per esempio due sistemi economici che non prevedessero iniquità oggettive che si fanno che si propongono come alternativi per un maggior progresso benessere di una certa di una certa nazione non è che il Magistero dice scegli questo piuttosto che quell'altro perché non sono affari suoi ok ecco però qui oggi c'è questa situazione quindi Cristo non sta regnando e quindi terminato questo scontro cosa possiamo immaginarci siccome gli scontri li vince sempre il nostro Signore bisognerà vedere capite perché il problema di questo scontro se posso dire il mio pensiero così come di quello finale è questo che prima della vittoria i nemici avranno l'illusione di aver vinto loro il diavolo canterà vittorie è un po' come quello che successe con la passione di nostro Signore il nostro Signore è morto non è morto per scherza è morto sul serio è morto veramente e nel momento della morte apparentemente cosa sembrava è morto ce lo siamo tolti di mezzo oh ci siamo tolti questo problema quest'impostore l'abbiamo ammazzato questo pensavano chi e quindi quando sembrava la fine c'è stato invece l'inizio eh a quello che è dato di capire ragionandoci un po' ripeto opinioni mie personali quindi opinabile quindi tranquillamente bypassabili in queste due fasi critiche della storia descritte nel libro dell'Apocalisse e che coinvolgono chiaramente chi non il nostro Signore Gesù Cristo che sta in cielo seduto alla testa del Padre ma noi che siamo il suo corpo mistico sulla terra quindi adesso la volontà del diavolo di distruggere la Chiesa la sua funzione la sua autorevolezza la sua autorità la sua incidenza che sta già un pezzo avanti secondo me non l'abbiamo finito a voglia ancora scende perché se si deve arrivare all'illusione di aver vinto a voglia ancora scende a voglia ancora a quante ce ne aspettano e a quante ne dovremo vedere ahimè e come dicono tante cose tante profezie che girano quando sembrerà la fine in quel momento ci sarà l'inizio armiamoci di santa pazienza di santa fede di tanta preghiera di tanta penitenza e di spirito di martirio soprattutto d'accordo ecco quindi San Tommaso sembra come dire avallare quell'ipotesi che questo regno dei mille anni è il tempo del regno di Dio in cielo già c'è ma sulla terra no e deve arrivare perché nostro Signore non fa fare preghiere inutili venga il tuo regno perché perché nostro Signore il Padre Nostro ha segnato venga il tuo regno perché non c'è ancora perché se se ci fossi già avrebbe dito consolida il tuo regno che sono venuto io l'ho fondato quindi già c'è quindi consolidalo proteggilo no non è non dice così il Padre Nostro dice venga il tuo regno ora tra gli esegeti del libro dell'Apocalisse moderni alcuni dicono però io non condivido questa interpretazione è che i mille anni non sono altro che la descrizione dello Stato delle anime separate fino alla risurrezione mi sembra una interpretazione come dire molto molto ampia per qualcun altro invece i mille anni sono il tempo di grande conversione di pace per la Chiesa e questo è Ugo Vanni che è stato anche il mio professore a suo tempo di Corpus Paulinum alla Gregoriana che precede l'ultima grande prova del secondo combattimento scatologico e questo io ritengo oltremodo attendibile se la storia come sembra dalla cronologia biblica va avanti a blocchi di duemila anni e ripeto questa cosa lo dico perché sono liberissimi di non crederci ma Gesù la proprio sottoscrive negli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta nel libro di Cero creazione dopo duemila anni c'è il diluvio il primo grande momento di purificazione dell'umanità dopo altri duemila anni quando il mondo stava in mano ai romani e Israele era bello che decaduto i re stavano proprio messi in pensione viene il nostro Signore Gesù Cristo quindi c'è un nuovo inizio comincia l'era della retenzione la creazione secondo la creazione dell'uomo quindi i nostri progenitori si collocano intorno a 4500-5000 anni avanti Cristo circa quindi con questi numeri ovviamente sempre con un circa la storia va avanti per blocchi di duemila anni quindi abbiamo duemila anni nostro Signore e vediamo che sta succedendo adesso che stiamo nel 2023 ok questa cosa a mio avviso è più che attendibile ora c'è l'interpretazione autentica del passo di San Marco 1332 circa non si sa quando arriva la parousia ricorderemo che il Signore spiega in quel Vangelo afferma quella frase molto equivocata anche dagli eretici dice quanto a quel giorno a quell'ora non lo sanno neppure gli angeli del cielo neppure il figlio ma solo il padre ora che significa questa frase dobbiamo andarlo a vedere perché c'è un'interpretazione autentica che si trova nel Densinger nei numeri 474 476 che adesso leggo citando i testuali sono un istante che purtroppo ho dimenticato di metterci i segni e devo un attimo riprenderli sono un istante allora siamo nella il testo è la lettera Sicutacqua scritta al patriarca di eologio di Alessandria e era una lettera di Papa Gregorio Magno quindi che ha regnato sulla chiesa di venerabilissima memoria dal 590 al 604 questa lettera è datata all'anno proprio 600 non 1600 è proprio il 600 che riconoscono il giorno e l'ora la vostra santità ha pensato del tutto a proposito che è da riferirsi senz'altro non allo stesso figlio in quanto è capo ma secondo il suo corpo che siamo noi circa queste cose in molti passi Agostino fa uso di tale significato e gli dice anche qualcos'altro che del medesimo figlio si possa comprendere che l'onnipotente Dio talora parla secondo il costume umano così dice ad Abramo ho riconosciuto che temi Dio ma non perché allora Dio avesse riconosciuto di essere temuto ma perché allora fece sapere ad Abramo che questi temeva Dio cercate di comprendere le sottigliezze veramente molto belle di queste riflessioni come infatti noi diciamo lieto un giorno non perché il giorno in sé sia lieto ma perché ci fa lieti così anche il figlio onnipotente dice di non conoscere il giorno che non fa conoscere non perché egli non lo conosca ma perché non permette affatto che venga conosciuto capite onde si dice anche che il padre solo lo conosce già che il figlio a lui con sostanziale dalla sua natura per la quale è sopra gli angeli ha di sapere ciò che gli angeli ignorano per cui si può comprendere ciò anche in maniera più precisa nel senso cioè che l'unigenito incarnato attenzione è fattosi perfetto uomo per noi nella natura dell'umanità attenzione nella natura dell'umanità conosceva il giorno allora del giudizio del giudizio tuttavia lo conosceva non dalla natura dell'umanità questa è un'altra finezza adesso la spiego ciò dunque che conosceva in essa non lo conosceva da essa poiché il Dio fatto uomo conosceva il giorno e l'ora del giudizio mediante la potenza della sua divinità non so se avete capito qui sta proponendo tuttanto una serie di interpretazioni possibili la prima è che il brano sia applicabile non a Cristo in persona ma alla Chiesa suo corpo e quindi è chiaro che nessuno di noi sa quando verrà l'ultimo giorno la seconda è un'analogia con il discorso che fece Dio ad Abramo adesso ho riconosciuto che tu temi il Signore non è che prima non lo sapevo e tu me l'hai fatto conoscere ma attraverso il superamento della prova tu hai conosciuto che temi il Signore quindi non è che non lo conosco io ma non te lo voglio far conoscere quindi parlo per iperbole terza cosa anche questa molto acuta è che Gesù dice non lo conosce nemmeno il figlio ma solo il padre perché non lo conosco in quanto uomo attenzione non è che non lo conosco perché l'umanità di Cristo forma una sola cosa con la sua divinità quindi è chiaro che l'uomo Cristo Gesù conosceva e conosce il giorno del giudizio universale ma non lo conosce dalla natura umana cioè non è una conoscenza che ha acquisito dall'uomo cioè dal suo essere uomo ma lo conosce nella natura umana cioè perché questa è una conoscenza che la natura umana del Signore ha mutuandola e traendola da quella divina perché lui ha due nature è una sola persona a differenza di noi ok quindi voi pensate un po' agli eretici che travisando questo versetto dice vedi non lo conosce neanche il figlio ma solo il padre Ario l'arianesimo questo era in questo passo era uno dei suoi cavalli di battaglia per dire che quindi il padre è più grande del figlio vedete San Gregorio Magno vedete la luce quando la chiesa come dire si accende della luce che il Signore gli ha dato ed innanzi a questo dobbiamo essere sempre tutti quanti profondamente sottomessi ora continuo la lettura che non è ancora finita perciò negò di avere con gli angeli che sono creature un sapere che non ebbe dalla natura dell'umanità in base alla quale egli fu una creatura assieme agli angeli il giorno quindi è l'ora del giudizio lo conosce il Dio è uomo ma per il motivo che Dio è uomo spero che dopo la spiegazione sia chiaro è poi fortemente manifesto che chiunque non sia nestoriano nestoriano pensava che Gesù non era una persona divina con due nature distinte l'umana e la divina ma pensava che fossero due persone una umana e una divina e che la persona divina avesse adottato quella umana quindi non secondo un'unione ipostatica ma morale e se questo fosse vero ci sarebbero due personalità in Cristo e l'unione del divino con l'umano non sarebbe come è un qualche cosa di irreversibile perché se la natura è morale quindi se la persona del verbo si affianca alla persona umana di Gesù se un giorno decide di andarsene e di svincolarsi lo può fare tranquillamente ma se c'è un'unione ipostatica cioè se la natura del Signore non sussiste se non in quanto unita alla persona del verbo una volta che l'incarnazione si è realizzata e così è è un processo irreversibile anche per lui anche per Dio perché Dio non va mai contro la la natura che lui stesso ha fatto e poi fortemente manifesto che chiunque non sia Nestoriano non può assolutamente essere altra grande agnoeta poi leggo e poi chiariamo che infatti professa incarnata la stessa sapienza di Dio in che senso può dire c'è qualcosa che la sapienza di Dio ignora è scritto in principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio tutto è stato fatto per mezzo di lui se tutto senza dubbio anche il giorno e l'ora del giudizio chi sarebbe perciò così insensato da osare dire che il verbo del padre fece ciò che ignora è anche scritto sapendo Gesù che il padre gli aveva dato tutto nelle sue mani se tutto vuol dire senz'altro anche il giorno e l'ora del giudizio chi è perciò così stolto da dire che il figlio ricevette nelle mani ciò che non conosce ora gli agnoeti sapete che in greco gignosco da cui deriva gnosis significa conoscenza agnoeti significa quelli che predicano la non conoscenza quindi che dicono che Cristo in quanto uomo non conoscesse alcune cose ma questa è una cosa assolutamente impossibile per le ragioni che sono state spiegate c'è qualcosa che la sapienza di Dio ignora no perché Gesù Cristo non è come diceva Nestorio un uomo nato da Maria Vergine poi adottato dal verbo no perché di Gesù Cristo si dice in principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio e il verbo si fece carne infine riguardo a quel passo in cui egli dice di Lazzaro alle donne dove l'avete posto sempre a altro cavallo di battaglia degli agnoeti no vedete dice dove l'avete posto perché non lo sa abbiamo esattamente pensato lo stesso che voi avete pensato cioè che se negano che il Signore sapesse dove Lazzaro era stato sepolto e che per questo abbia posto la domanda sono costretti senza dubbio da ammettere che il Signore ignorava il luogo dove Adamo ed Eva dopo la colpa si erano nascosti no alurché nel paradiso disse Adamo dove sei oppure alurché si scaglia contro Cheno dicendo dove è Abbele tuo fratello che se non lo sapeva perché allora giunse il sangue di tuo fratello che gli dà me dalla terra vedete vedete anche qui no gli eretici prendono un passo della saga scrittura dice ah quando arriva da Lazzaro dice dove l'avete posto ah lo vedi lo vedi che la conoscenza di Cristo uomo non è perfetta non sa dove hanno posto Lazzaro e sangue risponde ah sì e quando Dio dice Adamo dove sei che Dio che sta cercando Adamo perché non sa dove sta o è una domanda che è una provocazione oppure quando dice dove è Abbele che forse non lo sapeva dove stava subito dopo aggiunge guarda che il sangue di tuo fratello grida a me non sono domande che sta facendo per manifestare un'ignoranza ma sono domande che sta facendo per provocare una risposta vedete amici miei le sagre scritture sono una cosa meravigliosa se uno ci si accosta però nel debito modo perché se uno ci si accosta non nel debito modo con la superbia e la presunzione di andare a scandagliare il non sondabile e andare a improvvisarsi eseggeti quando non lo si può diventare un problema no? allora concludiamo prima della parosia abbiamo visto che dovranno compersi segni premonitori compresa la comparsa dell'anticristo per antonomasia possiamo chiamarlo poi ricordiamo che Gesù ha anche detto che il Vangelo deve essere annunziato prima della parosia ad ogni creatura Matteo 24 14 e che ci deve essere la conversione di Israele prima della fine Cristo apparirà come giudice glorioso e sarà visto da tutti indagare sul luogo in cui Cristo verrà dove compare sono le classiche cose che è meglio evitare d'accordo? perché anche qui nell'antico testamento c'è la valle di Giosafat quindi Giosafat in ebraico Giosafat il termine Giosafat esiste la valle di Giosafat in Palestina ma in ebraico Giosafat è Dio è il giudice significa cioè sembra una tautologia che il giudizio avvenga nella valle di Giosafat è normale perché Giosafat significa Yahweh il giudice Giosafat Scefet scusate Scefet da qui Giosafat che significa giudicare quindi porsi domani porsi questione di questo genere è una cosa proprio del tutto fuori luogo ecco è chiaro che la venuta di Cristo la parousia segnerà il trionfo definitivo di Dio sulle potenze del male e l'instaurazione definitiva eterna del suo regno ecco perché capite è molto verosimile che dopo il primo combattimento escatologico ci sia un'instaurazione non definitiva perché i mille anni finiranno mille anni reali o simbolici però il regno sulla terra ci starà ci starà così come dopo la parousia che è l'ultima venuta ci sarà il regno universale e la definitiva separazione dei malvagi dei buoni e basta ora la parousia stessa completerà la glorificazione del Cristo iniziata con la risurrezione e l'ascensione perché perché le conferirà dimensione pubblica solenne universale in molti non ci credono che Cristo è risorto ma ecco che viene ecco che viene sulle nuvi ognuno lo vedrà anche quelli che lo trafissero e tutti si batteranno il petto molti si batteranno il petto di disperazione quindi non sarà un battersi il tempo di scusate un battersi il petto come lo facciamo adesso quando ci convertiamo ma tutti lo vedranno e in quel momento il Cristo glorificato il momento della parousia poi vedremo la risurrezione della grande giudizio universale aprirà il libro della storia schiuderà i sigilli e rendendoli paesi a tutti gli uomini mostrerà in tutta la sua chiarezza il segreto di segno di Dio ormai compiuto perché alla fine sarà compiuto nello scuro intreccio della storia in quel momento prima a noi come abbiamo visto anche oggi ci basta e ci stravanza secondo la sua volontà la dimensione e l'orizzonte della fede e il segno l'orizzonte